Ha vinto il numero uno del ciclismo mondiale, Pogacar ha alzato le braccia al cielo sul traguardo dei Prati di Tivo dopo la tappa partita da Spoleto fino ad arrivare in terra abruzzese 152 km con pendenze che hanno toccato anche il 12%. Il corridore sloveno negli ultimi metri di questa tappa ha cambiato marcia, è salito fino ai Prati di Tivo in solitaria alzando le braccia al cielo al cospetto di un pubblico davvero entusiasta per questa ennesima impresa. Pogacar che va quindi a confermare, a consolidare la sua maglia rosa ma che soprattutto dà un segnale importante ai suoi avversari. Giro che domani ripartirà da Avezzano quindi sempre dall'Abruzzo per toccare la città di Napoli ed ovviamente riparte la caccia al cannibale sloveno che però oggi, lo ripetiamo, ha dato il segnale più importante. Pogacar che poi ai nostri microfoni ha rilasciato questa dichiarazione. Non è stata una missione impossibile, sono molto contento per la vittoria anche perché oggi ho avuto degli avversari agguerriti ma i miei compagni mi hanno sostenuto sin dall'inizio della giornata. Davvero il nostro team ha fatto un ottimo lavoro oggi e sono contento per averli ripagati con questa vittoria di tappa, difficilissima. Questa deve essere la nostra mentalità, cioè lavorare sempre di squadra. Ora è il momento di riposarsi un po' e poi con calma pensare alla giornata di domani che sarà comunque dura. Grazie. 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 Grazie.